Amici di Arcoiris, benvenuti a leggere negli occhi la rubrica cura dell'associazione scrittori di Bologna. L'ospite di questo incontro viene da Ravenna, si chiama Gianluca Costantini e il libro grazie al quale chiacchiereremo di tutto, di scrittura, lettura, in questo caso grafica, perché Gianluca è un illustratore e un produttore di fumetti. Il libro di cui parleremo e che ci guiderà nella conversazione si chiama Vorrei incontrarti, è questo, e pubblicato dall'editore Fernandel di Ravenna. Gianluca ci vive, lavora a Ravenna, ha pubblicato moltissimo per fumetti e illustrazioni, per rivisti italiane e anche straniere per i più prestigiosi editori del settore. Dirige anche una rivista, Inguine Magazine, dovrò vedere, ammetto di non aver avuto tempo di collegarmi, ma non solo, è anche un promoter culturale perché ha curato esposizioni di importanti autori come Marianza, Trapi e Gio Sacco, ben noti anche al pubblico italiano. Vi dico sin d'ora che tutta la sua produzione è visibile anche su internet, oltre all'intervista che state vedendo, accingendovi a vedere, anche sul suo sito www.gianlucacostantini.com. Bene, vorrei incontrarti, questo tuo libro, ha una strana, in quarta di copertina possiamo leggere una strana presentazione, dice, romanzo di formazione su musica di Alan Sorrenti. Però ho preciso una cosa che mi intriga molto, di cui dopo ti chiederò conto, dice, disegnato e scritto da Gianluca Costantini. Introducici un po' a questo tuo libro, all'ambiente emotivo generale, che cosa leggerà chi entra in questo libro? Si leggerà un arco di tempo della mia vita e bisogna fare subito un apprentice perché ho scoperto ultimamente in presentazione di libri autobiografici, visto che io non ne avevo mai fatto in vita mia, che tutti pensano che siano mezzi quasi tutti inventati. Invece questo è al 100% verità. Almeno una dichiarazione netta sin dal nemico. Tutto quello che si legge, infatti mi sono fatto un mucchio di nemici, soprattutto le donne che compaiono in questo libro, e quindi racconta proprio un arco di tempo che è quello classico dell'adolescenza, finché dicono sei cresciuto e diventi un uomo. Dicono. Ahimè. Per uno che disegna i fumetti è difficile da ammettere, però è questo. Quindi si vada proprio dall'adolescenza primaria fino ai giorni nostri, raccoglie dieci anni. Questo libro qui naturalmente non è un libro classico perché non è solo scritto, ma è anche disegnato. ma non è neanche un fumetto classico perché non tiene conto di molti canoni e impostazioni che vengono dati al fumetto classico di regole, una gabbia che viene data per la… Che tu peraltro hai… Che io ho già sviluppato poi nel tempo, ho passato. Comunque io sono sempre stato un po' fuori dal fumetto mainstream, come si dice, così faccio molti meno soldi, tanto per farsi dell'autoregionismo. E' particolare secondario, stiamo parlando ad una non profit company come Arco Iris, quindi è perfetto parlare di questo senso. Io vorrei chiederti perché leggendo sono stato molto colpito dalla scrittura, anche se uno prende questo libro e dice un racconto a fumetto, lo sfoglia e dice ok vado a… mi appresto a leggere un fumetto. Ma la realtà è che la definizione più spontanea che mi è venuta alla fine della lettura è che si tratta di un libro di scrittura a fumetti. Il testo, in questo tuo libro, a differenza di tante altre opere a fumetti, ha un'importanza estetica e creativa che credo sia almeno pari a quella figurativa. Certo. Condividi questa definizione di scrittura a fumetti. Sì, sia per i contenuti penso che per il modo di scrivere in mezzo al disegno. Cioè, la scrittura è fatta nella stessa maniera in cui è fatto il disegno. Il segno è sempre lo stesso, non c'è una cosa a parte come nei fumetti classi che vengono chiamati ballon, nuvolette… Sì, sì, è vero. Invece è molto intrecciato. È intrecciato in mezzo. Questo perché il… non so, io ho sempre avuto… questo libro qui anche graficamente è molto diverso dalle cose che io faccio solitamente. Nel senso che io faccio un… ho un tipo di fumetto quasi barocco, quindi è elaborato all'ennesima potenza, è complicatissimo. Invece qui c'è solo la linea che vive in questo libro e si rifà più che altro alla mia passione che ho per la calligrafia e la… medio orientale, diciamo, quella proprio della… che ci sono anche nelle moschee, nelle… nei libri religiosi. Poi citavamo Mariano Satrapi prima con il suo tratto molto… Sì, esatto. Anche lei è molto… Anche lei è molto… …leggiante. Lei è ancora più morbida. Sì, sì, sì. Io però oltre appunto per spiegare un po' questo concetto della scrittura fumetti, ho fatto anche un passo avanti perché sono stato colpito dalla bellezza di molte tue pagine e direi che è ancora più realistico e parlare di poesia a fumetti. Allora ho proprio cercato di… e non è facile, forse non è un'operazione del tutto corretta, ma di estrapolare un testo dalla sua visività correlata. Senza le immagini. Esatto. E l'ho trovato splendido e allora siccome conduco io, adesso me lo leggo, in cui sinceramente si capirà come non bisogna leggere poesia, ma abbiate pazienza. Sentite cosa scrive Gianluca correllando uno dei suoi bei disegni. Quando la noia a morsi svilisce le ambizioni e montano i risentimenti senza più un'emozione e le strade si dividono, ciascuno ha la sua strada, l'amore un'altra volta ci separa. Il letto è così freddo se sto dalla tua parte, fallisco io l'accordo o il rispetto è già secco? Seppure l'attrazione si mantiene nel tempo, l'amore un'altra volta ci separa. Io esibisco miserie, tu le gridi nel sonno, riconosco la disperazione da quel sapore in bocca. È stato troppo bello per esserlo per sempre, l'amore, amore mio, già ci separa. Però ti devo deludere perché non l'ho scritta io. Ecco, infatti molte, molte... Questa è una canzone che è contenuta, c'è scritto infatti che credo. No, non c'è scritto. Ma comunque questa è una canzone di Joy Division. Joy Division. Ecco, anche questo è un altro discorso che mi interessa molto. Oltre al fatto che ci sono molte... Perso un'occasione. Non credo che abbia perso un'occasione perché ci vuole del coraggio anche a disegnare sopra un testo così bello. Ci sono parecchie altre parti virgolettate. Ci piace il gioco delle citazioni, ce ne sono altre nel libro? Sì, moltissime. Sono sempre state nei miei lavori questa cosa della citazione. Qui ci sono solo citazioni, si può dire, a parte quella di uno scrittore francese che si chiama Wellenbach. Credo si pronuncia così. Wellenbach, è stato un caso letterale. Credo che sia scomparso adesso. È da parte che non pubblica più. È anche molto antipatico da quello che si è conosciuto. A parte la sua, tutte le citazioni che sono in questo libro qui, però sono solo canzoni. Canzoni. Quasi sempre c'è scritto che da cosa viene derivata. Mi dai proprio il destro per farti un'altra domanda. La colonna sonora è presente, è importantissima e le citazioni sono molto particolari perché passiamo da Ultravox a Joy Division, Lisa Gerard, Brian Nino, Daniele Silvestri, Vincent Gallo. Quanto è importante per te avere un sottofondo musicale? C'è una musica in quello che si legge, quando leggi la narrativa. Sì. L'ho trovata anche nella tua, che non è una narrativa tradizionale. Sì, infatti si spera, soprattutto per il tipo di libro che devi riuscire a convincere la gente ad andare avanti in un libro così, perché è grafico, che ti sia una certa musicalità tra le pagine, in modo che sia come un ballo, una pagina e l'altra, anche col disegno. E se no, credo che ti bloccheresti presto a leggere… Ti venga da muovere il piedino. Magheri. Sì, poi la musica è molto fondamentale per me, proprio anche durante quando lavoro e quindi si mischia… La senti, ascolti, perché chi fa narrativa pura, ad esempio, credo che abbia qualche difficoltà. Può essere, che si distraga troppo, invece chi disegna può permetterselo, penso, perché la mente fa un'altra cosa, in verità. Eh, allora passiamo un po' a questo segno, al disegno e al segno figurativo, che ovviamente è la cifra stilistica più importante del tuo libro. Il tuo ragionamento sull'arte compare in un paio di citazioni ed è molto intrigante, per cui ti chiedevo un po' di commentare queste paio di cose che ho letto. Comincio da una che viene dopo. A un certo punto dici, esiste solo la mia arte per me, il resto è compagnia. Questo è il primo commento che ti chiedo di fare. Prima, invece, il nostro non-eroe, direi, di questo romanzo per figure, dice, mi svegliavo non molto tempo fa con voglia di creare, perché Dio è noioso ed impone il suo stile del vedere e del creare. Ora non creo che immagini, che immaginari scontati, la mia arte barra vita mi annoia. Spero che non sia così. Cosa legge, eh? Spero che non sia così. No, però è stato così quando erai quel periodo, perché... Perché sei in un'altra fase. In un'altra fase. Tra l'adolescenza e l'età matura. Sì, perché quando sei adolescenti fare gli artisti sembra molto così bello, lo leggi nei libri, così. In verità non sei nient'altro che solito una persona qualsiasi. Certo. Però è un sogno, quasi uno stereotipo esserlo. Poi dopo, se uno lo è o non lo è, non sta a lui stesso dirlo, forse, o sì, non lo so. Però credo che dopo non sia più importante, come l'aspirazione a esserlo. Credo che uno dopo, se veramente ha le capacità, lo è e basta. Non è che deve raggiungerlo. Credo... Sì, sì. Sì. Molto chiaro. L'aspirazione fa parte di un processo iniziale. Esatto. Di arrivare a qualcosa. E infatti poi molti di scrittori ufficiali, diciamo, non di fumetti, hanno fatto proprio il libro dell'artista da giovane. Credo che... Quasi, quasi tutti hanno cominciato con questo titolo. Ne ha segnato forse la cifra in seguito. Vabbè, adesso però il discorso dell'editoria, della narrativa, è difficile, perché si è sottoposti a talmente tanti... Impressioni. Controlli, impressioni. Comunque avremo modo di parlare. Il tuo ragionamento sull'arte di adesso, perché credo sia come chi scrive, come noi che scriviamo, siamo molto attenti a tutto quello che ci accade attorno. Certo. Penso che anche per chi scegli un altro modo espressivo, come il segno grafico, debba essere attento a quello che gli succede attorno. C'è qualcuno che ci citeresti in maniera particolare, o come tuo punto di riferimento estetico, oppure che ti piace, semplicemente? Quelli di punti di riferimento estetici non ce ne sono nel campo del fumetto, proprio. Ci sono più forse nel campo dell'arte alta, come si suol dire, dai pittori o illustratori, però non dei libri di infanzia, cose così, un po' più elevati. Sì, questo. Mi rifaccio più che altro a disegnatori del Novecento, un po' per essere un po' anacronistico, ma è così, diciamo. Mentre i miei fumettisti che mi piacciono, che più che altro faccio tantissimi scamotage per riuscire a organizzare le loro mostre, invitarli e poi conoscerli direttamente. E quindi quelli che hai citato prima, per esempio, erano dei miei punti di riferimento. Io questo Alexander Zograff non lo conosco, ma... Alexander Zograff è un fumettista di Belgrado, serbo, è diventato famoso perché scriveva e disegnava mentre bombardavano la sua città che è vicina a Belgrado, che si è a Pancevo, che è un petrolchimico serbo. E quindi mentre gli cadevano le bombe, anche in Italia tutti i giorni uscivano le sue, non so se sul manifesto o su qualcos'altro. Adesso esce su internazionale con le sue... è sopravvissuto, diciamo, ma poi... Già qualcosa in quegli anni durissimi. Alexander Zograff, molto bene. Io vorrei fare un gioco con te, che è il contrario, spero che tu mi rispondi, non come rispondeva Beckett quando gli chiedevano di spiegare qualcosa, che lui diceva, volevo dire quello che ho detto e poi se ne andava, ma ci sono molte frasi intriganti, in qualche modo anche piuttosto ricercate nel tuo libro. E mi piaceva chiederti un commento, un'idea da dove nasceva questa cosa, adesso la devo trovare. Ecco, per intanto, che le cerco? Spiegami un'altra curiosità. È una scelta quella di non numerare le pagine, perché per chi ti deve intervistare dovrebbe mettere 10.000 punti di riferimento, ma non c'è il numero di pagine. Era una scelta perché non ci piaceva graficamente. Non ci stava proprio. Le avrei dovuti scrivere tutte a mano, i numerini. Queste tavole sono molto... impegnano molto la pagina, quindi forse il numero... dove ce lo mettiamo? Allora, vediamo un po' se riesco a iniziare. Allora, la prima citazione molto interessante, che a questo punto... questa non è virgolettata, ma ti devo chiedere se è tua oppure no. Eppure la vita è semplice e giusta, meglio ridere, soprattutto ridere. Sì, non è una citazione. Non è una citazione, è Gianluca Costantini. Ma è quel Gianluca Costantini o quello di oggi che finalmente si è staccato dall'immagine del poeta maledetto? No, è sempre quello lì. È sempre allora. Cioè non c'è niente che ci rimanda al tuo se di oggi. Poi questa, diciamo, magari una parentesi su questo scritto, è che la parte scritta è stata scritta tipo... cinque anni fa, mentre la parte grafica è stata fatta solo l'anno scorso e non è stato cambiato niente di quello che era scritto nel testo. Cioè era nato come un testo... Era nato come un testo sul quale hai deciso di disegnare. Poi non l'avevo mai disegnato perché, come ti ho detto prima, il mio disegno era talmente diverso e complesso che non riusciva a raccontare un... non sarebbe riuscita a raccontare questo tipo di storia. In qualche modo quindi anche un'esperienza creativa importante... Ti ha costretto a scegliere qualcosa di diverso. Sarà difficile tornare indietro. Non conosco il tuo segno precedente, ma questo... Sì, è molto... Veramente... Avanti non lo so come si possa andare. Sono rimasto molto sorpreso, devo dire, quando è uscito quelli che già mi seguivano. Perché non... Perché erano proprio diversi. Allora, vediamo ancora un po' un commento a quest'altro testo. Allora capirai per intero che l'intelligenza aggira sempre. Cosa aggira? O chi aggira? Perché aggira? Com'era la risposta di... No, scherzo. No, era... Sì, perché a volte... Chi... L'intelligenza delle persone... Che non tutti sono intelligenti, però... Succede spesso di incontrare delle persone intelligenti. Però a volte questa intelligenza può essere... Può essere dannosa al rapporto tra due persone. Può servirti per sempre per aggirare il vero discorso, il vero obiettivo. Per sviarti. Questo era un po' il senso di questa parte del racconto. Perché poi dopo è collegato naturalmente a tutto quell'altro che c'è scritto vicino. Eh, anche dopo. Infatti in qualche modo mi introduce a quest'altro commento che ti volevo chiedere. Più avanti dici... Duemila anni di felicità non sarebbero bastati a farmi accarezzare un bambino senza pensieri intellettuali. È vero che la vita intellettuale è arida, che in qualche modo ci distacca da qualcosa di più tattile, semplice e caloroso? Sì, può essere vero. Può essere vero. Sì. Può essere vero, però può essere anche proprio l'opposto. Però io credo che sia un po' una generalizzazione che sia così. Chi fa il mestiere intellettuale, magari come molti di noi, pensa invece di essere più attento. È un po' collegato sempre all'altra citazione, c'è l'altra cosa che hai detto prima, dell'altra frase. Sì, ci sono stati, li ho messi un attaccato all'altro perché mi sembravano molto ben legabili. Cosa aspetta il lettore di Gianluca Costantini per il futuro? Allora, a parte che io esco su varie riviste sempre, continuamente. Poi il prossimo... Città ce n'è qualcuna perché io l'ho saltata per essere un po' più... Vabbè, la principale è questa Inguine Magazine perché io poi sono il direttore artistico, quindi è una rivista nata da un sito internet che adesso ha un editore ufficiale che è la Coniglio Editore di Roma. È di cartacea. Sì, è di cartacea, scende le librerie ogni quattro mesi. Quindi questo è un impegno fisso perché alcuni disegnatori tra cui io siamo fissi tutti i numeri. E poi dopo sempre con questa casa editrice qui, Fernandella, si sta già preparando un altro libro che si chiama Diario di un qualunquista, che è la versione politica della mia vita, diciamo. Nell'ultimo decenni oppure andiamo avanti? Nell'ultimo anno, nell'ultimo anno questo. È sempre un libro di questo tipo, però non è una sequenza. Ogni pagina è un avvenimento o qualcosa che è successo nel mondo in quei giorni che l'ho disegnato. Ogni giorno disegno qualcosa che succede. E ancora scrivi per il Manifesto? No, adesso no. Adesso in passato hai dedicato su questo libro. Cambiano sempre le collaborazioni, gli abbiamo citato alcune. Adesso mi è venuto, dopo la tua descrizione, mi è venuto benissimo in mente quel segno nervoso e scattante. Mi sono ricordato improvvisamente chi è Alexander Zograff, al quale non avevo associato, ma dopo il tuo racconto, non avevo associato questi disegni un po' schizzati, che venivano sicuramente da un momento di grande difficoltà. Bene, io ringrazio Gianluca Costantini di essere stato con noi e ovviamente, come tutti i nostri ospiti, chiedo di personalizzare per me il libro per la mia prestigiosa collezione. E poi chiudiamo con la nostra perla conclusiva, appunto, che oggi è una curiosità. Una curiosità che affido a un classico, cioè a Petrarca. Petrarca confidò in un suo diario che avrebbe voluto possedere uno strumento che gli permettesse di scrivere al buio, rimanendo a letto, per raggiungere un tale livello di concentrazione da non necessitare di alcun che di motorio, per non avere nessuno stimolo se non la scrittura in sé, in linea diretta con la sua mente. Forse un sogno, ma sicuramente una curiosità. Per noi che scriviamo e leggiamo, forse anche Petrarca è una citazione non del tutto lontana. Grazie e al prossimo incontro. Grazie a tutti.